Benvenuto Sigfrido Ranucci, cominciamo con il report, il vice direttore di Rai3 conduce il report, lo seguiamo, lo vediamo, siete finiti nei guai, siete Novax. Ogni tanto spunta fuori questa accusa, no? Allora aspetta, dico bene come sarebbe, oggi i parlamentari di PD e Forza Italia hanno accusato la puntata di report ieri sera di disinformazione, un lungo compendio delle più irresponsabili tesi Novax e No Green Pass. Il vaccino come business delle case farmaceutiche, ci spieghi che si tratta e poi ci dici se è vero o no. Ci si sono infilati anche quelli di Italia Viva, no? Anche Renzi. Vostri vecchi amici, ora ne parleremo. Intanto io credo che questa sia una grande operazione di distrazione di massa, nel senso che ogni volta che non si vuole affrontare i problemi che noi denunciamo, che non sono tesi ma sono fatti, allora si tira fuori la storia del Novax. Io mi sono vaccinato, la mia famiglia... Ti accusano di complotto, però anche tu li stai accusando di complotto. E beh, io li sto accusando di non aver visto la puntata, che è una cosa diversa. Allora, parlaci della puntata, intanto stai dicendo che tu ti sei vaccinato. Io mi sono vaccinato, sono stato in contesti di guerra dove, insomma, mi sono vaccinato addirittura, ho fatto otto vaccini in un giorno per andarci. Non so di quanti di queste persone l'abbiano fatto. E tu personalmente al vaccino credi? Io poi dico, quali sono questi fatti o tesi Novax? Noi ieri abbiamo denunciato che l'AIFA, la nostra agenzia di controllo sul farmaco, il 9 settembre ha autorizzato per la terza dose, la dose intera di Moderna, quando sei giorni prima la stessa casa farmaceutica Moderna aveva raccomandato la metà dose. Cosa che poi è stata abbracciata da tutti gli enti regolatori del mondo. Siamo statati. Quindi è una teoria Novax, questo è un fatto. È stata iniettata a migliaia di anziani, per quello che sono le nostre stime ovviamente, perché nessuno ci ha dato i dati su questo. Poi abbiamo detto che si stanno ammalando gli infermieri negli ospedali, gli operatori sanitari, perché si sta abbassando l'efficacia del vaccino. Una protezione del vaccino. E non vengono fatti i tamponi. Passano mesi prima che vengano fatti i tamponi a persone che lavorano negli ospedali. È una tesi Novax, questa mi sembra un fatto concreto. Poi abbiamo detto che bisognerebbe studiare l'andamento degli anticorpi. Lo stesso Istituto Superiore di Sanità aveva annunciato uno studio imponente un anno fa, proprio per monitorare la nostra capacità di proteggerci dal virus. Ancora non sono stati pubblicati i dati. Cosa dubiti che possa funzionare effettivamente il vaccino? Noi siamo stati in Israele e siamo stati a vedere in Israele. Hanno deciso di vaccinare il 65% della popolazione con la terza dose dopo aver monitorato gli anticorpi. Dopo aver visto che i contagi erano risaliti in estate, proprio perché si erano abbassati gli anticorpi e in accordo con il governo hanno deciso di partire con la campagna di vaccinazione. Noi questo non l'abbiamo fatto. Navighiamo a vista. C'è un piccolo laboratorio dell'ospedale di Niguarda a Milano che sta facendo volontariamente questa ricerca. Può fare 5.000 test al giorno, fa la raccolta dati volontaria. Questo non è una ricerca di Stato. Però ci sono due aspetti. Non è una tesi no-vax, però ci sono due aspetti. Uno di forma. Ti dicono, beh, ma fai parlare gli infermieri bendati. Ne ha parlato uno su quattro. Sì, però chiaramente chierea il clima di dico cose che non si possono dire perché il sistema ci controlla. E il secondo, potevi ricordare che comunque un vaccinato ha un terzo di possibilità di rimanere. No, l'ho detto io. Abbiamo portato l'esempio di Cap Code, che è una cittadina americana, dove c'è un'altissima percentuale di vaccinati. Si sono riuniti in una sala da ballo. Non pensavano di ballare anche, di fare un giro di valse col virus. Sono stati, per tre quarti, i positivi erano vaccinati. C'è stato l'intervento della massima autorità sanitaria statunitense, la CDC, che ha fatto due studi. L'abbiamo detto chiaramente, che la mortalità è notevolmente abbassata col vaccino, ma che la carica virale, questo è un fatto importante, è un'informazione importante che le nostre autorità dovrebbero sapere, che la carica virale, ha scoperto la CDC, di un vaccinato è uguale a una di quelli non vaccinati. Ed è per questo, ho anche detto, che gli Stati Uniti... Diciamo, non siamo due virologi, quindi usciamo da questo. Il punto è, il come si dicono le cose potrebbe influenzare sulla cosa che dici. Cioè, se ora la puntata di report viene presa e cavalcata dai Novax, tu ti preoccupi? No, noi abbiamo avuto accuse dai Novax. Ok. Cioè, basta andare sul sito e vedere che siamo stati sommersi dai Novax. Perché c'è sempre report in mezzo a queste polemiche? Ah, questo bisognerebbe chiederlo. Ma forse perché siamo stati ecumenici nella nostra storia 25ennale, non abbiamo amici, nel senso che le interrogazioni parlamentari, le interrogazioni in Commissione di Vigilanza, arrivano a tutto l'arco costituzionale, le querele, le richieste di risarcimento danni, arrivano a tutto l'arco costituzionale. Allora, se sei d'accordo, ripercorso.